Allora, la compagnia Francesco della Betta debutta a Tre Ponti al Teatro Sotto le Stelle. È la prima volta che veniamo al Teatro Sotto le Stelle a Fano, abbiamo già una lunga gavetta in tutta la provincia, presentiamo uno spettacolo che non è nuovissimo, giusto? No, non è nuovissimo. L'abbiamo già presentato al Teatro Rossini di Pesaro, al Teatro Sperimentale di Pesaro, al Teatro Sanzio di Urbino, e siamo già stati da Rocco Costanza a Pesaro, però Fano per noi era un obiettivo e siamo felicissimi, felicissimi, no? Felicissimi! C'è un privilegio per noi essere e poter debutare all'Arena BCC di Tre Ponti. Di che cosa parla? Un po' la trama, dai, svegliamo qualcosa. La commedia si chiama A che ora passa la Corriera delle otto? La trama, adesso non possiamo, diciamo che è un quadro di una famiglia con delle implicazioni che raggiungono anche l'ultraterreno. È un viaggio fantasioso a data ritorno, attraverso il quale chiaramente però diciamo delle cose, ben preciso, nulla è ciò che appare.